Sindaco Petti, allora è tutto un altro vedere? Sicuramente sì, una cosa bellissima, un prato tutto verde, anche se artificiale, però credo che questo darà soddisfazione sia alla polisportiva, ai giovani, ai bambini soprattutto, perché ci teniamo che le giovani generazioni possano soffrire di una struttura di questo tipo. Certamente, era veramente inguardabile questo campo, quindi la tecnologia fa veramente dei miracoli ultimamente. Tra l'altro questo è un campo di ultima generazione, quindi salvaguarda anche le caviglie e quant'altro. Sì, non solo, salvaguarda anche la salute in termini di respirazione, di ciò che sono gli umori che l'erba può emanare, perché è controllata anche questa. Il campo purtroppo stava in condizioni brutte, l'intervento costava, noi avevamo fatto la promessa in campagna elettorale, l'abbiamo mantenuta, per fortuna ci siamo riusciti, anche se abbiamo dovuto sopportare il prezzo a totale carico dell'amministrazione. Quindi se si vuole, si può fare, si può ancora fare? Ma quando è possibile sì, noi ce l'abbiamo messa tutta, ci siamo riusciti con l'aiuto chiaramente degli amministratori che hanno capito il senso dell'operazione che vale veramente la pena di aver fatto. Ci dicevano i dirigenti della Polisportiva che è bastato soltanto pensare al sintetico che sono aumentate anche le iscrizioni alla scuola calcio. Sì, i ragazzi di Ripa sono entusiasti, veramente. Io ho sentito qualche figlio di amico, diciamo così, che frequento più di altri e loro sono veramente entusiasti. Credo che frequenteranno molto. Già era abbastanza nutrito il numero di ragazzi che partecipava alla scuola calcio, ma è aumentato di gran lunga da quello che mi dicevano i dirigenti della Polisportiva e penso che aumenterà ancora.